Ma che la gara l'ha vinta, il Porto d'Ascoli ha fatto un buon primo tempo, non ci sono dubbi. E' chiaro che nel calcio, soprattutto a questi livelli, se regali e regali quello che abbiamo fatto noi, abbiamo commesso due grosse ingerità contro l'attacco, i giocatori di qualità che ha il Porto d'Ascoli, in questa categoria non ti perdonano. Ma io, più della partita, parlerei un attimino della situazione del mio avvento. Sono da pochi giorni sulla panchina da Tavazzano, non ho la bacchetta magica, ci sono delle problematiche di natura fisica, di natura tecnica, di natura, chiaramente quando si eredita un gruppo non costruito dal sottoscritto devo avere un attimino di tempo per conoscere i pregi e i difetti di questa squadra.